Grazie a tutti Grazie a tutti Fu quello che nel progetto Manhattan denunciò Oppenheimer per attività subversive Ma soprattutto Teller è stato per 40 anni il capo della commissione scientifica che studiava la tecnologia aliena Io ho approfondito l'aspetto militare delle scie chimiche Perché negli anni Ottanta sono stato sottoposto a degli esperimenti di controllo mentale A infrasuoni dalla polizia italiana o da entità non meglio definite direi a comando mafioso massonico E gli esperimenti a cui sono stato sottoposto negli anni Ottanta Oggi vengono sviluppati sulla totalità della popolazione Le armi psicodroniche prima di Chernobyl nei trattati della NATO Venivano definite armi disumane Erano dopo la categoria non letale, dopo il nucleare chimico-batteriologico Queste armi oggi sono in attività, sono in funzione Non funzionano esclusivamente con gli raggiamenti di ARP o di altre tecnologie Funzionano anche con la luce del sole E hanno effetti dannosissimi sul ciclo del carbone Le molecole del carbone sono quelle che nel nostro DNA raccolgono informazioni dalla luce solare Per modificare il nostro sistema immunitario E soprattutto adeguarlo alla qualità diversa della luce del sole in questa fase Queste armi sono già attive I primi che studiarono il lavaggio del cervello, come veniva chiamato Durante l'ultima guerra Gli inventori di queste tecnologie sono stati i gesuiti E dopo di loro i russi e poi gli americani Oggi noi stiamo ingerendo le nostre antennine Le respiriamo Le assorbiamo attraverso l'acqua e i cibi Queste nanoparticelle di metalli vanno a costituire un trasponder All'interno del nostro corpo Una rete elettrica artificiale che si sovrappone a quella naturale L'obiettivo di queste armi è quello di inibire la vitalità umana La prima fase del trattamento militare in termini militari si chiama GAS Sindrome d'adattamento graduale Cioè vengono disturbate nel singolo individuo, nel singolo primario umano Vengono disturbate le comunicazioni La scienza sa che ognuno di noi, come altri mammiferi Se isolato dai nostri simili, ha delle reazioni autodistruttive E nella guerra moderna l'autodistruzione è l'arma più economica Queste armi diminuiscono l'elettronegatività nel nostro corpo Quella che ci permette di assorbire protoni dal cosmo E quindi energia, vitalità In questa prima fase Ricordo che queste armi sono già attive su tutta la popolazione E la prima fase consiste nel distruggere le relazioni, le comunicazioni del singolo Con i propri simili Gli scienziati sanno che ogni restringimento dello spazio vitale e delle comunicazioni Corrisponde una reazione autodistruttiva Lo scopo è il controllo della popolazione La sicurezza interna da garantire al totalitarismo delle merci All'imperialismo finanziario che controlla tutto il pianeta Ora, nel nostro caso, sono ormai 15 anni che ci troviamo sotto una ionosfera artificiale d'alluminio E' come se un nuovo sistema di trasmissioni radio Più vicino, più accanto al nostro habitat Lavorasse esclusivamente sulla riflessione di segnali radio Che vanno ad agire sul nostro centro di comando, che è la pineale Questi metalli che noi respiriamo, queste nanoparticelle Si vanno a ridepositare all'interno della ghiandola pineale Costituendo un circuito piazza elettrico artificiale Come quello della puntina di un giradischio Lo scopo di questi signori è sostituire il disco senza che noi ce ne accorgiamo Isolare quindi l'individuo Disturbare le sue comunicazioni Produrre nell'individuo una condizione perenne di mente reattiva Quindi di far vivere gli esseri umani nella bocca, nell'aggoscia Le politiche delle emergenze Il vivere in pericolo Tutto questo viene potenziato dalla continua ritualità del crimine Che viene espressa dalle televisioni, dal cinema Dove si fa una filosofia del delitto per legittimare la sacralità del profitto Ora, chi governa queste operazioni Sa che negli esseri umani gli episodi traumatici Vengono conservati sotto forma di fare il video Ognuno di noi conserva nella sua memoria Le sue esperienze traumatiche sotto forma di immagini Tenendo sempre sotto le stimolazioni queste memorie Perdiamo la consapevolezza, la mente logica E viviamo in una condizione di cervello rettile Che è un po' quella del clerico fascismo, del porno fascismo attuale Praticamente, o che si occupa esclusivamente della propria sopravvivenza Ma soprattutto non ragiona Quindi noi stiamo assorbendo le nostre antennine Le antennine si ricompongono all'interno della nostra diambola pineale Possiamo essere controllati non solo nei nostri pensieri Possono essere modificati nei nostri pensieri Può essere danneggiata la nostra volontà e la nostra coscienza E addirittura può essere manipolata la nostra immaginazione I nostri sogni, anche i nostri sogni Possiamo accorgerci di essere sottoposti a questo tipo di trattamento Singolarmente nelle nostre case Perché oggi queste armi possono operare anche in orizzontale Fino a pochi anni fa operavano soltanto dal satellite, dall'alto verso il basso Oggi operano anche in orizzontale utilizzando le frequenze della RAI Che hanno liberato quel digitale terrestre E il regalo che ci fecero i militari negli anni Ottanta Cioè la telefonina mobile Serviva a mappare, a classificare Le frequenze delle nostre radioonde cerebrali Perché quattro misure sono uguali per tutti gli esseri umani Altre quattro variano Questo perché? Perché questo tipo di Io li chiamo Li chiamo Flash Cioè questo tipo di spari Possono essere mirati Direttamente sulla radiofrequenza cerebrale di un singolo individuo E quindi possono colpire in maniera selettiva Oppure anche generalizzata Le armi psicodroniche Quindi le armi che si servono della luce Sono delle radioonde polarizzate Cioè sono dei segnali radiopolarizzati Esattamente come il laser Solo che nel caso nostro si tratta delle onde ilziane Polarizzate Che diventano un'arma A vari livelli A secondo di come viene regolata la potenza La frequenza Possono stordire Anestesizzare O anche uccidere O anche produrre un ictus A cosa del genere Ora ricordando che il cervello elettrico Eh sì scusate Che il cervello è una rete elettrica A modulazione chimica E sappiamo Dall'elettroshock Eccelera Che l'elettricità È dannosa per il cervello umano Se ricordate che cosa è accaduto Tra Natale e Capodanno Ultimi Ricordate c'è stata una moria Particolarmente strana De specie viventi sul nostro pianeta Sono morte circa Una ventina di specie diverse Di pesci E di uccelli In luoghi diversi del pianeta Quindi in modo selettivo E non era un esperimento Non era un incidente Non era Un evento Accidentale Era semplicemente Un dispiegamento Di potenza Militare Da parte Dei militari Che governano Questo tipo di progetto Che hanno dimostrato Al resto degli eserciti Del pianeta La loro capacità Di uccidere Con armi scalari La specie Prescelta Nel luogo prescelto Come quando vogliono Certo Dire queste cose È un po' terrificante Perché Possiamo anche Non accorgerci affatto Di essere sottoposti A questo tipo di trattamento Sentiremmo soltanto Dei ronzii Nell'orecchio sinistro E potremo vedere Delle lucine Davanti al nostro sguardo Ma potremo pensare Che tutto ciò È una cosa normale In realtà Queste armi Sono già operative E Queste armi Hanno anche Una tecnologia Particolarmente Raffinata D'origine aliena Perché Come vi dicevo Il signor Teller Dagli anni 40 Fin dagli anni 40 Era il capo Commissione scientifico Che studiava La tecnologia aliena Questo signor Teller Grazie al cielo Adesso è morto Ma ce ne sono altri Come lui Che operano Queste armi Stanno in questa prima fase Stanno destrutturando Il nostro interfaccia Le nostre relazioni Con le persone A noi più care In termini militari Si chiama GAS Sindrome Sindrome D'adattamento Graduale Cioè Vengono Disturbate E interrotte Le comunicazioni Del singolo individuo In maniera graduale Producendo depressione Autodistruttività A vari stadi Ora Tutta la materia Che regola Alla base Di questo tipo Di armamenti Era la fisica Di Tesla La fisica Della risonanza Schumann Che dagli anni Sessanta È stata censurata Dai testi di studio Dei licei scientifici E dell'università Tutta la fisica Della risonanza È scomparsa Dai testi universitari Perché La fisica Della risonanza È alla base Di queste armi Che lavorano Sul cervello umano La filosofia orientale Sintetizza La fisica Della risonanza È un concetto Semplice Ciò che concorda Nel tono Vibra insieme Ecco Noi adesso Dobbiamo Non vibrare insieme Ognuno di noi Deve vivere In una condizione Di dissonanza Armonica Esattamente come Il pianeta Che viaggiando Nel cosmo Ha due enormi falle Nei due oceani Una nel Golfo Del Messico E un'altra Nella centrale atomica In Giappone E queste due Enormi falle Producono Nella nostra trottola Viaggiando Nel cosmo Uno scossone Che aumenta Sempre di più Soprattutto In relazione Alle modificazioni Geomagnetiche Che stanno avvenendo In tutto il sistema Solare Ora A me piacerebbe Discutere in maniera Approfondita Con tutti voi Sullo scopo primario Di questi Di queste Gas Perché Forse Approfondendo meglio Lo scopo Potremmo capire meglio Chi c'è Dietro a questa operazione Immediatamente Potremmo pensare All'industria Farmaceutica All'industria Militare E' chiaro Che sono loro Che governano Questo processo Come spiegava Prima Gaetano Si tratta Di un riformattamento Genetico Della nostra specie Non solo In funzione Servile Non solo Per avere Dei buoni schiavi Obbedienti Schiavi E soprattutto Prostrati Ma probabilmente Anche qualcos'altro Oltre che La riduzione Della popolazione O il controllo Delle coscienze Se approfondiamo Gli scopi ultimi Di questi sistemi D'arma E di condizionamento Potremmo capire Chi li governa Però sembrerebbe Che i nostri governanti Non sanno nulla La prestigia Come ha detto Io non so niente Di scia chimiche Allora Se in 15 anni Un individuo Non alza gli occhi Al cielo Vabbè Può pure essere Ma che non alza Gli occhi al cielo Un verde Un militante Un militante Ecologico E quindi Comincia a diventare strano Greenpeace WWF Legambiente Guardano le balene E non guardano Gli operai Della telecoma francese Che si uccidono Eppure Sono due fenomeni Strettamente legati Si tratta di Autodistruttività Da disturbi De comunicazioni Elettriche Esistono Università Centri scientifici Facoltà Di Nembologia Un'infinità Dei fisici Di meteorologia Che non vedono Niente Non alzano gli occhi Al cielo Quanto più Il fenomeno Diventa palese Evidente E quanto più Cresce L'omertà Intorno a questa Versione Io personalmente Oltre a una sofferenza Profonda Che provo Ogni volta Che mi trovo Sotto a un cervello Sì a un cervello Ma a un cielo D'alluminio Bianco Privo Di alcune radiazioni Calde Un cielo freddo Umido Noso abbondo Provo Un dolore profondo E penso Al futuro Al futuro Dei nostri figli Ma anche Al nostro futuro Prossimo Perché Sembra più Sempre più Attivo Questo sistema D'arma La narcosi In cui ci troviamo La narcosi E la rassegnazione In cui ci troviamo Di fronte A un governo Sempre più Mediocre E mafioso I linguaggi Massonici Che ormai Diventano Dominanti Nella televisione Sui giornali Tutto questo È terrifico Perché Se ci trovassimo Di fronte A una questione Come quella Giapponese Qui sarebbe Una strage È anche vero Che potremmo Essere Sterminati Dall'immondizia Prima ancora Che delle radiazioni O delle armi A radioonde Però Qualche cosa Dobbiamo fare Si può Fare qualcosa Per difendersi Da tutto ciò Purtroppo Nei nostri gruppi Non ci sono Medici Che potrebbero Aiutarci Nei sistemi Di autodifesa Alcuni sistemi Di autodifesa Da queste armi Esistono E sono anche Economici Molto poco costosi Possiamo Costruirli In casa Però Bisogna Conoscere un po' La fisica Della risonanza E a quel punto Potremmo Difenderci Da questi Disturbi Elettrici Diciamo così Che in questa Prima fase Stanno Provocando Una Narcosi Di massa Associata A un disturbo Dei cicli Biologici Di tutti Gli esseri Umani A riposo Tutti i cicli Circadiani Il cibo Il dormire Sono tutti quanti Disturbati Da queste armi Il mio punto Di vista È che Un'entità Più o meno Scura Ma comunque Riconducibile All'elite Industriale Degli armamenti E dei farmaci Che poi Nell'Occidente Cristiano È controllata Dall'elite Della nostra Religione Cioè Dei gesuiti Sono loro Solo loro I nostri padroni Della guerra E dei farmaci Ma dietro a loro Deve esistere Sicuramente Un comando Ancora più Centralizzato E forse Soltanto Approfondendo Gli scopi Di queste Errorazioni E l'uso Di queste armi Potremmo capire meglio Cosa sta succedendo Io ho fatto Uno studio Dertutto Empirico Comunque Lungo Nel tempo E credo Che ci siano Forse Avrete sentito Di questi disegni Nei campi Ora Quei disegni Nei campi Di grano Sono stati Fatti Anche in Italia E sono stati Fatti In Sardegna In tutto Il paese Il messaggio Che questi Disegni Portavano Il messaggio Scritto Nei carboidrati Nel pane Nel grano In quello Che è La base Della nostra Vita Il carbonio Disegni Di una geometria Energetica Che usa Come modello La struttura Tetraetrica Della molecola Di carbonio E la molecola Di carbonio È l'unica Fotosensibile Nel DNA Umano Alle variazioni Della luce Solare In quei disegni In quelle scritture C'erano stati Dati degli allarmi Sia sul fatto Che noi mangiamo Pane OGM Grano OGM Dagli anni Settanta Quindi mangiamo Grano sterile Ma soprattutto Queste scritture Sulla superficie Della terra Ci avvertivano Già Nel 97 Ci avvertivano Che il pericolo Per la nostra specie Proveniva dal sole E proveniva Della radioattività Tant'è vero Che uno Di queste scritture La fecero All'interno Del poligono De Guirra De cui avete Sentito parlare Recentemente Dove hanno Sperimentate Armi Armamenti All'uranio E Piacevolezze Di questo genere Ora Ovviamente Queste informazioni So quanto mai Diciamo così Indefinibili O vague Per me Hanno Un Significato Preciso Siamo stati Avvertiti Siamo stati Avvertiti Dal 1987 Fino Ad anni Più Recenti Gli ultimi Avvertimenti Erano I più Estremi Erano Gli incendi Sul 38esimo Parallelo Vicino a Palermo A Canneto A Canneto A Canneto di Caronia Sul 38esimo Parallelo Che è quello Dove sono iniziati I terremoti In Giappone E a Ginestra Fiorentina Qui vicino Casa Ostra Nel 2004 E nel 2005 Con incendi Di natura Ispiegabile O quanto meno Da definire Della rete Elettrica E della rete E della rete Idrica Cioè Quelle cose Che sono Le uniche al mondo Che noi pensiamo Che possano Prendere fuoco Finito Grazie 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 Grazie